Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Diverse le cose che sono accadute questa domenica nel Ferrarese e anche in regione. Da punto di vista dell'emergenza coronavirus i numeri non sono incoraggianti, li sentiremo a breve. E poi c'è la replica dal punto di vista politico del vice sindaco Lodi alla consigliere del Partito Democratico Marcella Zappaterra. Ma sentiremo tutto a brevissimo perché oggi è stata una giornata di forte maltempo nell'Alto Ferrarese. I fiumi e in particolare il Reno sono sotto osservazione da ore ma è nel Modenese la situazione più critica dove è esondato. Il Panaro, squadre di vigili del fuoco e della protezione civile estensi, sono a corsa appunto da Ferrara per dare il proprio contributo a questa situazione non facile. Sentiamo cosa è successo nel servizio. È esondato domenica mattina il Panaro vicino a Nonantola nel Modenese. L'Argin è stato travolto dall'acqua e secondo la regione Emilia-Romagna, come avrebbero riportato i tecnici, l'evento sarebbe dovuto a una situazione meteo più che eccezionale che ha sommato lo scioglimento della neve in quota, 40 centimetri di manto nevoso diventato acqua in pochissime ore, a piogge a carattere torrentizio. Allagamenti si sono verificati anche nelle abitazioni limitrofe al torrente tiepido che ha avuto livelli molto alti per le acque rigurgitate del fiume Panaro, tra le strutture dedicate all'accoglienza di eventuali sfollati. Sabato notte di lavoro per i vigili del fuoco, anche per l'ondata di maltempo che ha colpito il bolognese, in particolare l'Appennino. Piogge e ventoforti hanno provocato diversi allagamenti e la caduta di alberi anche sulle strade. Al momento non risulterebbero persone ferite. Attenzione massima, anche nel Centese, osservato speciale, il fiume Reno erano circa le 14, quando la piena è arrivata a 100, ma il suo passaggio rileva la protezione civile. Non ha registrato danni l'allerta arancione, qui è scattata nella giornata di ieri e nella notte fra sabato e domenica è stata aperta l'opera di presa del Reno che si trova a Sant'Agostino. Allagate anche le golene del Centese, come quella adiacente al Pontevecchio che collega a Pieve di Cento. Sentiamo allora il sindaco Fabrizio Toselli e il rappresentante della protezione civile Centese. Stiamo monitorando insieme ai nostri ragazzi del gruppo ANA protezione civile di Cento la situazione della piena. È una piena importante, però non testa particolari problemi per quanto riguarda la chiusura del ponte. Stiamo monitorando insieme alla Regione Emilia Romagna quella che sarà l'evoluzione. Non è prevista la chiusura del ponte e quindi bisogna stare attenti. Grande attenzione, grande controllo della situazione, però nessuna preoccupazione. Ringrazio il gruppo nostro di protezione civile perché è da ieri che sta monitorando gli argini e sta controllando che la situazione sia sotto controllo. e chiaramente vi terremo informati sia come amministrazione anche come gruppo di protezione civile un po' dell'evoluzione della situazione. Oggi abbiamo circa una ventina di volontari ANA impiegati. I ragazzi sono impiegati da venerdì sera, tardo pomeriggio, serata, per via del forte vento e sono stati impiegati più che altro per monitorare le vie di comunicazione principali ed eventualmente rimuovere rami caduti sulla strada. Successivamente sono stati impiegati per l'attività di monitoraggio degli argini che vedete tuttora attivi e saranno impiegati finché le criticità non saranno superate, quindi indicativamente in tarda serata. Continueremo ovviamente a tenervi aggiornati sulla situazione del maltempo che ripetiamo sta toccando per il ferrarese e soprattutto il centese, ma ormai da mesi vi stiamo dando questi dati. Stiamo parlando ovviamente di emergenza coronavirus, sono i dati odierni relativi alle emergenze che riguardano soprattutto la sanità. Allora i decessi purtroppo causati da complicazioni apportate dal virus continuano a essere tanti e soprattutto sono in aumento in queste ore. Sentiamo allora tutti i dati che concernono l'emergenza coronavirus e soprattutto ci fanno anche capire come si sta muovendo la curva epidemica sia sul nostro territorio che a livello regionale. Non accennano a calare i decessi in regione nel ferrarese per complicazioni apportate da covid, anzi sabato sul territorio estense erano due le vittime, domenica sei le persone decedute per complicazioni apportate dal coronavirus, quattro donne tra i 69 e i 97 anni e due uomini di 84 e 85 anni. Anche in regione il numero delle vittime sale dalle 52 di sabato alle 88 di domenica. Le buone notizie arrivano dal livello ospedaliero regionale, in calo i ricoveri in terapia intensiva come i casi attivi, cioè i malati effettivi. Nel ferrarese invece cresce sensibilmente il numero dei ricoveri in terapia intensiva, due posti occupati in più, sette nuovi ricoveri al Sant'Anna di Cona, quattro dimessi nelle ultime ore. Capitolo nuovi positivi, cresce sia nel ferrarese che in Emilia Romagna la percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi eseguiti. Domenica nel ferrarese 140 nuovi casi, solo 23 con sintomi, con un tasso di incidenza sui tamponi effettuato al 20,5%, sabato era il 17,8%, 140, quindi nuovi casi a fronte di 98 ferraresi guariti. In Emilia Romagna meno positivi registrati tra un giorno e l'altro, ma meno tamponi eseguiti, quasi 1.800 nuovi positivi in regione, ma come detto cresce dal 10,5% al 16% il tasso di incidenza nuovi positivi tamponi fatti. Intanto l'azienda USL di Ferrara da lunedì comunicherà l'esito del tampone anche tramite MS sul numero di cellulare del paziente o via mail, obiettivo accelerare i tempi di comunicazione dell'esito del test così da ridurre i tempi di circolazione del virus e limitare i rischi per la salute pubblica. E cambiamo totalmente argomento per parlare di politica immediata, la risposta del vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi via social all'annuncio di querela da parte del consigliere del Partito Democratico Marcella Zapaterra. Sentiamo. Non ci sto, è questa la risposta del vice sindaco di Ferrara, esponente di spicco della Lega Estense Nicola Lodi all'annuncio di querela per diffamazione aggravata da parte di Marcella Zappaterra, consigliere Emiliano Romagnola del Partito Democratico, secondo cui Lodi in una recente diretta social avrebbe detto affermazioni infondate sulla ferrarese ora in consiglio regionale. Bufale sul mio conto sostenne Zappaterra riferendosi a un solo caso di giustizia contabile e non penale risalente al 2009 quando era presidente della provincia di Ferrara per cui avrebbe pagato una sanzione amministrativa. Ma quel tanto altro aggiunto da Lodi nella diretta social non trova corrispondenza in nessun atto giudiziale e continua Zappaterra, così è partita la querela, immediata la replica di Lodi. Riguardo le vicende giudiziarie menzionate nella diretta social del vice sindaco, la differenza per Lodi starebbe nel fatto che Zappaterra avrebbe agito come amministratore pubblico in carica, l'esponente della Lega invece come imprenditore artigiano. La differenza quindi dal punto di vista politico sarebbe ben diversa, sottintende Lodi. Posso avere incontrato difficoltà e ne ho pagato le conseguenze, aggiunge il vice sindaco, che attacca Zappaterra anche sull'annuncio da parte della consigliera di destinare il denaro dell'eventuale risarcimento danni ai settori più colpiti dall'emergenza covid. Strumentalizzare anche il coronavirus per attaccare la mia persona non fa onore alla consigliera, aggiunge il vice sindaco, il quale chiede i motivi per cui Zappaterra non destina già da ora parte del proprio stipendio a chi è in difficoltà. Gesto che Lodi sostiene di effettuare già da inizio pandemia. È ancora politica alla vigilia dell'elezione che si svolgerà per posta in dicembre del segretario dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Ferrara. Dopo le dimissioni, la primavera scorsa, dell'ex segretario Minelli, i due candidati si presentano alla città con il loro programma. Nei giorni scorsi è stato Cristiano Guagliata a inviare una lettera aperta alle redazioni, ora è la volta di Alessandro Talmelli, che vedete nella foto, imprenditore del settore artigiano e membro dell'esecutivo comunale e PD, quindi saranno due i candidati. Uno di questi è Talmelli, potrete leggere sul sito talestense.it le motivazioni che hanno spinto Talmelli a candidarsi. Cambiamo adesso però argomento, l'incontro con il male assoluto è quello che è stato raccontato ieri sera da Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, dei primi anni 90, da un anno e mezzo parlamentare europeo per una lista affiliata al PD nel dibattito sul web promosso dall'Associazione Ferrarese Tutori del Tempo, prima associazione in Emilia Romagna costituita da volontari formati alla tutela di tutti i minori privi di figure adulte di riferimento perché orfani o perché i genitori sono stati sospesi o decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, quindi sentiamo cosa è accaduto ieri sera. L'incontro con il male assoluto è quello che ci ha raccontato ieri sera Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, dei primi anni 90, da un anno e mezzo parlamentare europeo, una decisione, quella di scendere in politica, sostenuta da una marea di voti, presa per raccontare all'Europa e al mondo le tragedie in cui si è imbattuto nei suoi trent'anni da medico, diviso fra l'accoglienza dei migranti sulla banchina del molo dell'isola e le prime cure prestate nel polio ambulatorio da lui diretto dove ha visto i segni di violenza e tortura indicibili e dove ha cercato di occuparsi dell'anima oltre che del corpo dei tanti disperati che rischiano mille volte la morte per riuscire a conquistarsi il diritto alla vita. In diretta ieri sera, sabato 5 dicembre alle 21, sulla pagina Facebook dell'Associazione Ferrarese Tutore nel Tempo, l'incontro con Bartolo è stato introdotto da Andrea Ferenceli, primo presidente dell'Associazione. Il medico ha risposto per oltre un'ora alle domande di Gustavo Zanoli. Medico, anche lui, è formatore dell'Associazione Intercultura ONLUS e dei tanti che hanno partecipato online all'evento conclusivo dell'iniziativa Prima Leggo, poi Parlo. Bartolo ha raccontato con passione l'esperienza vissuta in questi anni da lui e da quanti hanno portato soccorso ai migranti sul mare e sull'isola. Un compito immane di cui il medico Lampedusano, ora parlamentare europeo, non ha tacciuto la fatica fisica ed emotiva di fronte alle incredibili malvagità patite da tanti di loro, bambini, donne, uomini, fuggiti da paesi ostili, sopravvissuti al tormento di lunghi viaggi, alla violenza dei campi di concentramento libici, ma ha anche tanto sdegno per chi in questi decenni ha creato una narrazione che mistifica il fenomeno dell'immigrazione. Lo contrasta, induce a temere l'arrivo di tanti disperati fatti passare agli occhi dei più come invasori. Bartolo ha reagito a questo stravolgimento della verità e dei fatti cominciando a raccontare ciò che vedeva. Lo ha fatto nei libri, Lacrime di Sale, Le stelle di Lampedusa, nei film Fuoco a mare di Franco Rosi, Nure di Maurizio Daccaro, un film censurato dal governo giallo-verde e poi approdato a Sky, ma anche nelle aule delle scuole del Parlamento europeo, con una speranza che i disperati della terra possono trovare vie legali per salvarsi attraverso i corredori umanitari, che i cittadini dell'Europa non volgano lo sguardo altrove per non vedere tanta disumanità, una tragedia dell'indifferenza di cui la storia dei nostri nipoti fra qualche anno ci chiameranno a rendere conto. Torniamo a parlare di sanità. La pandemia non ha fermato l'appuntamento con l'aggiornamento del confronto sulle talassemie organizzato dall'Associazione per la lotta alla talassemia Rino Vullo di Ferrara. Il meeting annuale che si è tenuto in questi giorni in streaming era rivolto a medici, ricercatori, anche personale infermieristico, associazioni di donatori e di pazienti, molti temi affrontati, tra cui anche la terapia genica, tema illustrato da Franco Locatelli, che è presidente del Consiglio Superiore della Sanità, che ha aperto il meeting. Sentiamolo. Il grande vantaggio della terapia genica è che evidentemente può essere applicata in tutti i soggetti, non ha bisogno di un donatore compatibile con il trapianto di midollo osseo ed è molto più sicura perché possiamo stimare il rischio di complicanze fatali largamente inferiore all'1%. I pazienti talassemici si chiedono se l'attesa riguarderà settimane o mesi per poter appunto accedere a questa terapia. Ce lo può un po' anticipare? Allora, detto che ovviamente il tutto non è sotto il mio governo, quindi come tutte le previsioni su un qualcosa che uno non controlla direttamente, cioè margine di aleatorietà, credo che sarà questione di qualche mese, probabilmente quattro mesi diciamo. Lei è venuto a Ferrara anni fa ed è sempre stato vicino alle associazioni dei pazienti, dei malati talassemici, anche l'alta rinnovullo di Ferrara. Ecco, le chiediamo quanto è importante secondo lei il rapporto tra i ricercatori e i pazienti, e l'associazione di pazienti? È assolutamente fondamentale e imprescindibile. Mi faccio partire nella risposta da un doveroso addirittura riconoscimento al ruolo che il professor Bullo ha avuto nella storia della cura dei pazienti talassemici nel nostro paese. È fondamentale il dialogo, è fondamentale il confronto, è cruciale trasferire informazioni, ecco perché sono venuto quando venne stata la possibilità di buon grado, anzi felicemente, a visitare Ferrara perché in questa contingenza almeno provo a condividere le informazioni di cui le ho parlato all'inizio attraverso la presentazione in remoto. Parliamo adesso di diversi gesti di solidarietà distribuiti in una giornata a quasi 900 kg di pasta e questa l'iniziativa di Coldiretti e della Fondazione Campagna Amica rivolta a operatori nel territorio ferrarese che svolgono funzioni di assistenza, di aiuto e di socialità. Allora sentiamo il vice direttore di Coldiretti Ferrara. Sì, in questo periodo natalizio abbiamo colto un'opportunità che ci viene dal nostro livello nazionale, la Fondazione Campagna Amica, che ha ricevuto una donazione importante e con questa donazione cercheremo di fare concretamente delle attività in tutta Italia e anche a Ferrara sicuramente siamo partiti. A Ferrara questa attività la stiamo svolgendo attraverso lo coinvolgimento di istituzioni e enti che si occupano di accoglienze bisognose, di assistenza a chi oggi è in stato di necessità e sappiamo che purtroppo questo periodo di pandemia ha fatto aumentare notevolmente questi numeri. Quindi abbiamo la possibilità che il nostro Consiglio di Amministrazione, la nostra Giunta, ha condiviso e ha impegnato fortemente perché fosse portato in tutto il territorio, quindi non soltanto in un punto, ma cercare di coinvolgere molti più associazioni in tutto il territorio ferrarese. Pasta, in questo momento è pasta, tra l'altro una pasta a chilometro zero, per noi si tratta di pasta di stagioni d'Italia, quindi fatta con affinatore cappelli di alta qualità, con tutte le caratteristiche anche salutistiche, per cui siamo sicuri che questo dono che riusciamo a fare per un quantitativo di circa una ventina di quintali sarà gradito e anche apprezzato proprio per le sue caratteristiche che fanno anche bene, oltre che far bene allo spirito, fanno bene anche al corpo perché sono salutistiche in modo certificato. Abbiamo coinvolto soprattutto quegli enti e quelle associazioni che raggiungono direttamente chi è stato in necessità, quindi chi gestisce mense, chi ha la possibilità di offrire dei pasti caldi e abbiamo portato materialmente e stiamo portando in questi giorni ancora questi doni in modo un po' variabile rispetto alle esigenze che ci sono, ma sicuramente attivandoci appunto verso il bisognoso. Abbiamo quindi raggiunto degli esili, esili parrocchiali o non parrocchiali, ma comunque magari sostenuti le fondazioni che hanno necessità sicuramente di un aiuto. Abbiamo raggiunto residenze per anziani, abbiamo raggiunto anche mense pubbliche, in particolare su Ferrara alcune mense che hanno appunto la possibilità di offrire pasti a chi ha oggi necessità di approcciarsi pur magari non essendo povero o non era povero ma oggi si trova appunto in condizioni invece di aver bisogno anche di un pasto caldo. Sport, SPAL, i biancoazzurri che ieri hanno battuto per 4-0 il Pisa, se ne parlerà domani a lunedì sport, ricordiamo che la serata sportiva su Telestense di domani prevederà anche un appuntamento con Baschettin, ma per noi ieri allo stadio c'era Alessandro Sovrani che ci racconta che momento i biancoazzurri stanno vivendo alla luce anche di questa appunto vittoria per 4-0 sul Pisa. Sesta vittoria consecutiva, 489 minuti senza subire gol, poker rifilato al malcapitato Pisa, da questa sera la SPAL si inserisce autorevolmente nella corsa per la promozione diretta in Serie A. La miglior partita della SPAL si era solto, qualche dubbio all'indomani delle prestazioni con Pescara e sul campo dell'Entella, comunque al termine delle quali poi erano arrivati ugualmente i due successi. Oggi è stato sgombrato, qualsiasi allontanato, qualsiasi dubbio perché la SPAL veramente oggi è piaciuta, ripertiamo, c'è da considerare i tanti problemi con cui ha avuto a che fare il Pisa, però la SPAL oggi ha dimostrato e ha confermato di avere una solidità e di avere una grande anche capacità di costruzione della manovra e anche finalizzazione della stessa. Poi è giusto sottolinearlo, lo ribadiamo ancora una volta, ancora porta rimasta inviolata con Tiam che ha avuto ben poco da fare, nelle reali circostanze in cui è stato chiamato in causa se l'è sempre cavata aggreggiamente. Comunque la società, anche in considerazione dei problemi a cui deve far fronte suo malgrado è già al lavoro. Non è detto che nelle prossime ore non arrivi la comunicazione ufficiale dell'ingaggio di un altro estremo difensore. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Minelli che ha avuto varie esperienze anche nel campionato cadetto, in particolar modo nell'Ebrescia e che Zamone conosce bene, quindi potremmo dire garantisce perché ha avuto a disposizione l'estremo difensore quando era a Padova. Quindi appuntamento con la serata sportiva di Telestense domani che è lunedì, con questa notizia invece chiudiamo questa edizione del Telegiornale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.